Per quanto riguarda la caserma qui a Navacchio, oggettivamente ci sembra una sciocchezza, ancorché c'è un problema di spending review. Il governo Renzi ha previsto un taglio dei fondi, dei finanziamenti per le caserme e questo ha messo in difficoltà il Comune che aveva predisposto un ricavo da questo stabile. Per cui il Comune per conservare la caserma deve andare incontro alla Ramma dei Carabinieri che certamente ritiene strategica la sede di Navacchio. Ci mancherebbe, per l'arma è una priorità, insomma questo Comune è uno dei comuni più importanti della provincia di Pisa quindi è impensabile un arretramento dell'arma, però il Comune deve fare un passo anche lui nei confronti dell'arma dei Carabinieri. Una spending review che riguarda naturalmente tutto il comparto, abbiamo parlato dell'arma dei Carabinieri della stazione di Navacchio ma tanti commissariati di polizia, tanti uffici della Polizia Postale, della Polfer e della Stradale saranno chiusi, quindi meno presidi sul territorio laddove però i cittadini richiedono maggiore presenza delle forze dell'ordine maggiore presenza delle figure indivise a uomini e donne delle varie forze dell'ordine ma purtroppo mancano sia gli uomini e addirittura spesso viene discriminato anche l'assenza dei mezzi. Si tagliano presidi presso le stazioni che sappiamo bene essere anche quelle più esposte alla microcriminalità in genere non si tratta adeguatamente sul piano finanziario delle forze dell'ordine quindi lì si demotiva, lì si attacca anche sul piano giuridico con normative assurde come quella che introduce un reato di tortura che era già punito dal nostro ordinamento. I presidi siano tutelati, crediamo che lo Stato non debba arretrare dal territorio. La Corte dei diritti umani ha sanzionato l'Italia per i fatti della scuola Diaz e anche perché mancava questo reato di tortura che invece lei precedentemente ha detto che è presente nella nostra legislazione. Ecco, cosa cambia con questo reato di tortura? Il punto è proprio questo, se parliamo del termine, dell'etimologia della tortura e quello che significa, ovviamente tutti vogliono che la tortura sia punita adeguatamente, ci mancherebbe. Il problema è che non bisogna punire altri comportamenti leciti e legittimi identificarli con una cosa che è diversa dal punto di vista, se chiediamo a qualunque poliziotto e carabiniero o a qualunque cittadino, a cominciare da me, che sono certamente un rigorista, la tortura va punita. Allora, innanzitutto il nostro codice puniva già la lesione, le percosse, le minacce. Se commesse da un pubblico ufficiale c'erano aggravanti molto significativi e quindi se un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni dà una percossa, minaccia o fa una lesione a un cittadino ha certamente una pena assai superiore a chiunque altro. Il punto è che sono state con una norma sbagliata dal punto di vista giuridico senza una previsione precisa e che alla fine, nella sua estensione anche un legittimo comportamento in ordine pubblico da parte di un appartamento della Forza dell'Ordine può portare a una denuncia del delinquente, del teppista al poliziotto per tortura è chiaro che le Forze dell'Ordine non sanno più quello che devono fare. Allora, la interrompo onorevole perché il 21 febbraio 2015 a Lucca un giudice ha punito con sei mesi di reclusione e 10.000 euro di sanzione un carabiniere che aveva arrestato un tunisino in modo poco brutale però con questo modo poco brutale il tunisino non è stato arrestato anzi è stato risarcito con 10.000 euro e il carabiniere invece è sanzionato con sei mesi di reclusione. Naturalmente questo tunisino era stato sorpreso in fragranza di reato stava rubando del rame all'interno di un'azienda ecco, cosa ne pensa anche di questa forse punizione troppo severa per questo carabiniere? Il punto è proprio questo è normale che per bloccare un violento devi per quanto puoi farlo con tutte le garanzie con tutta la professionalità possibile devi fare un'azione violenta e nell'azione violenta può capitare un incidente allora il punto è proprio qua per carità è giusto punire una persona che ha freddo abusa del proprio potere e fa una violenza gratuita contro un'altra persona anche se è uno che ha commesso un reato ma innanzitutto va punito in maniera proporzionata e non sproporzionata ma né si può stare col fucile spianato nei confronti di operatori delle forze dell'ordine che difendono la nostra libertà la nostra sicurezza perché è ovvio che all'azione violenta si risponde con un'azione forte violenta che può provocare anche incidentalmente qualche danno collaterale in conclusione due aspetti diciamo della politica internazionale Isis sicuramente l'Isis dalla Libia controlla l'afflusso quindi si ruba anche i soldi da questi disgraziati per aiutarli a farli venire in Italia il problema cosa può accadere che magari chi vive nell'emarginazione nella disperazione perché noi non saremo mai in grado di provvedere a centinaia di migliaia di persone quando non riusciamo neanche a garantire il futuro ai nostri giovani certamente non saremo in grado né di integrare né di aiutare economicamente queste persone passata l'emergenza i profughi verranno abbandonati a se stessi e finiranno nelle maglie della criminalità e non è escluso che qualcuno di questi disperati potrebbe essere reclutato per qualche azione terroristica nel senso approfittando dell'emarginazione della povertà e dell'ignoranza magari non subito ma in prospettiva l'Isis o piuttosto che altre organizzazioni terroristiche potrebbero reclutare come sta avvenendo in Francia conclusione cosa ne pensa del rinvio del ricorso dei due marocchi contro la polizia investigativa indiana i nostri due marocchi comunque non ci sono le prove che hanno partecipato a questo eventuale omicidio colposo si trovano da tre anni senza un capo di accusa questa è una violazione dei diritti umani sostanzialmente privati della libertà di allontanarsi dall'India se comunque fosse vero che questo episodio fosse accaduto sarebbe accaduto in acqua internazionale quindi non sarebbe competenza dell'India ma sarebbe competenza dell'Italia perché la nave aveva una bandiera italiana e batteva una bandiera italiana e quindi un'altra violazione del diritto internazionale peraltro era una missione voluta dall'ONU contro la pedateria a vantaggio soprattutto dell'India e noi stiamo ancora a fare i favori dell'India che garantiamo la libertà nell'oceano indiano perché facciamo ancora azioni antipirateria spendiamo i soldi mandiamo i militari e c'è la legge sull'immunità funzionale quindi le forze armate impegnate in missioni internazionali hanno il diritto in ogni caso di essere processati nel proprio paese grazie a tutti